La rivoluzione fiscale questa volta muove dal sud. Lo fa dalla sede del Consiglio regionale della Basilicata a Potenza con il primo incontro tra il coordinatore dell'area meridionale del Comitato Nazionale Flat Tax e i nuovi referenti provinciali e regionali. La tassa piatta con l'alicota al 15% non solo per le imprese ma anche per le famiglie è il punto d'approdo di questa rivoluzione che ha nel senatore leghista Armando Siri il suo ideologo anche se come spiega il Consigliere regionale Lucano Massimo Zullino in quota lega aderire al Comitato Nazionale Flat Tax non significa entrare nel partito. Il sistema fiscale che oggi noi abbiamo è veramente molto vessante nei confronti dei cittadini. Noi abbiamo uno Stato che si considera alla pari come socio alla pari anzi in alcuni casi arriva anche a ben oltre il 60% quando ci sono degli utili. Quando va male invece a rimetterci solo l'imprenditore. Questo sistema deve cambiare. La rivoluzione fiscale per noi vuol dire creare un nuovo rapporto tra Stato e contribuente. Bisogna farsi trovare pronti. Cambiare il sistema tributario invertendo anche l'onere della prova è l'obiettivo ribadito in occasione dell'incontro ospitato a Potenza nel corso del quale sono stati presentati i coordinatori provinciali delle altre regioni del Sud. Nella BAT sarà il giovane Ruggero Grimaldi a rappresentare le istanze del Comitato. Al giorno d'oggi chi vuole fare impresa e chi decide di creare nuove imprese in Italia sono soprattutto i giovani come giusto che sia. Quindi è naturale ed è normale. Purtroppo nel nostro paese negli ultimi anni non lo è stato ma è naturale che uno Stato che vuole crescere, che vuole far implementare la propria economia dia spazio, dia fiducia ai giovani soprattutto dal punto di vista fiscale. La flat tax è una rivoluzione fiscale che permette alle nuove partite IVA come è già stato dimostrato d'altronde nel primo anno di governo in cui è stata attuata per le partite IVA fino a 65.000 euro e oltre 300.000 nuove partite IVA sono nate, dimostra quanto aprire una partita IVA in Italia con i giusti criteri fiscali può essere comodo, vantaggioso, utile e soprattutto necessario per rimettere in moto l'economia.